Dottore, la situazione carceraria continua a denotare delle problematiche principalmente inerenti alla carenza di personale, il sovraffollamento delle carceri e anche il poco clamore, la poca attenzione su quelli che sono i progetti di riabilitazione dei detenuti? Sì, è una situazione critica, una situazione che va affrontata a più livelli, che richiede certamente uno sforzo da parte dell'amministrazione penitenziaria di razionalizzazione di alcuni servizi, ma soprattutto occorre che i soggetti esterni, le altre realtà istituzionali, la società civile si coinvolga in un mondo che invece viene spesso negletto, denegato, immarginato. Questo è un grande problema perché quelle persone che vivono l'esperienza della detenzione, nel caso specifico del studio che io dirigo, addirittura con problematiche di ordine psichiatrico, hanno a nostro giudizio diritto a un'alta chance e spesso sono delle risorse che andrebbero quindi in qualche modo reinserite in maniera efficace. I percorsi ai quali stiamo pensando, progetti di formazione, progetti di studio, progetti di carattere lavorativo, vogliono avere soprattutto questo risultato, cioè quello di un reinserimento valido e quindi che questi soggetti non siano in qualche modo destinatari di elemosine sociali, ma devono invece essere inseriti anche perché devono in qualche modo riparare il danno prodotto al tessuto sociale. Lei diceva nel corso del convegno una cosa molto importante e significativa, io ogni giorno comunque quando mi trovo di fronte a questi detenuti, mi pongo l'interrogativo di quale sia il senso della loro vita. In realtà i ricoverati dell'ospedale psichiatrico e giudiziario oggi sono veramente gli ultimi della società, a certe volte abbiamo l'impressione davvero di fungere da battumiera sociale. Sono delle derive, difiutate da tutti, malati, gravemente malati, ai quali occorre evidentemente, se è di un paese civile quello di cui stiamo parlando e quello nel quale dovremmo vivere, dovremmo consentire di avere delle opportunità di cura, di recupero, di riabilitazione efficaci. Finora non ci siamo riusciti e allora davvero certe volte ho un senso di grave frustrazione quando mi sento impotente di fronte a vite e a percorsi esistenziali che so bene dovremmo orientare verso ben altre strade, ben altre finalità. A suo avviso, in conclusione, di fronte a queste difficoltà perduranti e difficoltà permanenti, prevale un senso di pessimismo o c'è comunque l'ottimismo? Guardi, se io non fossi ottimista e non avessi ancora passione nelle cose che faccio, me ne sarei già andato da tempo. La realtà è estremamente complessa, molto difficile. Abbiamo una fase, la storia di questo paese a tutti i livelli è assai complessa. Il mondo penitenziario riflette le problematiche generali. Tuttavia io sono convinto per me, per i miei figli e naturalmente per le persone che mi sono affidate in grave difficoltà che possano avere davvero un'alternativa. Io nel mio piccolo provo, è vero, a dare il mio contributo.